Il nero le dona, il nero è passepartout, petit robe noir, il classico, re in contrastato della moda minimal oppure over, il nero è almeno 30 anni che detta le regole. Dal chiodo alle occasioni grand soiree, il nero si presta a mille interpretazioni, camaleontico e trasversale. Gli accessori, i dettagli, tono su tono di contrasto possono enfatizzare la creazione di moda automotive. Lavorazioni particolari possono rendere unico il modello. DS3 Black Leeser interpreta il tema del nero, degli accessori qualificanti e delle lavorazioni artigianali. È un'edizione limitata, la Black Leeser, creata per dare luce a quei valori fondamentali di DS Automobile, tradizione, eleganza ed innovazione, quello spirito avant-garde proprio del DNA automotive della marca francese. Applicata a mano due ore di lavoro degli specialisti del laboratorio di personalizzazione DS Automobile, la texture richiama la pelle di un rettile, riveste il tetto e lo spoiler posteriore e a seconda della luce ricrea quegli effetti matelassé degli accessori delle maison d'alta moda, quegli oggetti così ricercati perché di gran pregio, che si abbinano in modo splendente al color nero. Colore, questo, il nero perla, per la carrozzeria che mette in risalto i cerchi in lega afrodite da 17 pollici e gli specchietti retrovisori bicolore, nero lucido e cromatico. All'interno dell'abitacolo, il rivestimento in tessuto Grand Rayados nero basalto e la plancia Black Style in nero lucido sottolineano la scelta stilistica che riconduce idealmente alle passerelle delle griff parigine nel comfort tipico delle DS degli anni 50, sottolineato dalla spessa moquette dei tappetini. L'arredamento della DS3 Black Leeser ha il suo completamento con gli accessori dell'avanguardia tecnologica di DS Automobile, touchpad da 7 pollici, pack auto e DS Connected Box. DS3 Black Leeser è disponibile nelle versioni con motore benzina PureTech 110 con cambio manuale e diesel BlueHD 100 Stop & Start.